La soluzione di Luciano D'Alfonso nel processo Housework suscita riflessioni da parte del Movimento 5 Stelle. In particolare il consigliere regionale Domenico Pettinari pone l'attenzione sul ruolo di magistrati e forze dell'ordine che hanno condotto indagini e processo. Sono profondamente vicino a due servitori dello Stato, il magistrato Gennaro Varone e il poliziotto ex capo della squadra mobili Pescara Nicola Zupo. Due uomini dello Stato che hanno sempre fatto il loro dovere senza tentendamenti, senza mai guardare in faccia nessuno. Persone che anche magari tante volte intraprendendo operazioni scomode ma le hanno portate sempre a termine. Io ci tengo ad esprimere questa vicinanza perché taluni hanno anche rimproverato forse il comportamento e l'azione di questi magistrati, di questo magistrato e di questo poliziotto. Io ero tra quelli che stringeva la mano al poliziotto Nicola Zupo a Pescara quando si parlava degli aiesti eclatanti e continuo a stringere quella mano dell'uomo dello Stato, dell'uomo che ha sempre fatto il proprio dovere, il magistrato che ha sempre fatto il proprio dovere. Ho rispetto le sentenze perché mi hanno sempre insegnato che le sentenze si rispettano, ma non dobbiamo mai dimenticare e abbandonare i servitori dello Stato. E mi sembra tanto che questa volta si vogliano quasi abbandonare al loro destino o dimenticare l'operato di due grandi uomini.